Pertanto, sono da sostenere le iniziative internazionali. Penso ad esempio a quelle recentemente promosse dal G20, volte a creare una governance globale per la salute di tutti gli abitanti del pianeta, vale a dire un insieme di regole chiare e concertate a livello internazionale, rispettose della dignità umana. Infatti, il rischio di nuove pandemie continuerà ad essere una minaccia anche per il futuro.